Quali sono gli strumenti tecnologici e gli strumenti sui quali abbiamo puntato? Ancora un maggiore elemento di narrazione, quindi l'elemento di racconto del singolo artigiano è più approfondito, viene sviluppato molto di più con la leva video, quindi è un primissimo elemento. I social network stanno cambiando, quindi l'utilizzo di social network è anche un pochino più espansi, lavoriamo meglio su Instagram, lavoriamo di più sui singoli social su quali raccontiamo l'iniziativa e soprattutto una totale restaing, un totale ripensamento del sito web con un'area che si chiama Cresci in cui l'artigiano può sviluppare un test per comprendere le proprie potenzialità ed anche i buchi nei quali deve imparare e migliorare di più, è una grande area di apprendimento fatta da un momento di ebook, dei post privati e dei singoli elementi di approfondimento che sono tendenzialmente dei link sui quali l'artigiano può sviluppare la propria conoscenza, veramente il passaggio dal sito web a tool è quello che fa la differenza in questa edizione. Grazie